Giossafari preso di mira da turisti, gitanti e famiglie ma purtroppo è stato anche preso di mira dai malviventi in quattro con occhiali da sole e mascherine bianche da chirurgo. Uno di loro ha puntato la pistola contro l'uomo che stava per depositare l'incasso dello Giossafari e si è fatto consegnare le due cassette con all'interno la somma di 35.000 euro. E' accaduto intorno alle 18 di ieri pomeriggio all'estrema periferia di Fasano, incontrata a Sant'Elia lungo via Giossafari a poche centinaia di metri dall'ingresso del grande parco divertimenti. L'uomo con il denaro, un dipendente 47 nei tre più anziani e i tre più fidati della struttura fasalese, mentre si trovava a bordo del suo veicolo avuto la strada sbarrata da una grossa BMW di colore scuro. Dall'auto sono scesi quattro individui con volto coperto, aprendo lo sportello della vettura su cui si trovava il malcapitato dipendente dello zoo e puntandoli contro una pistola. Non c'è stato bisogno di parlare per cui l'uomo sottotiro capisse cosa volevano, ha preso le cassette con il denaro e li ha consegnati al commando. A quel punto i quattro sono tornati in auto ripartendo a tutta velocità ed imboccando delle stradine secondarie che conducono a valle. Per ora si sa solo che la targa dell'auto su cui il commando si è diliguato inizia con le lettere BK. Solo dopo il poveretto ha potuto dare l'allarme facendo scattare una serie di posti di blocco da parte dei carabinieri della compagnia di Fasano e delle stazioni della zona.